Ciao ragazzi, ciao ragazzi! È arrivato finalmente il momento di un nuovo episodio della serie Compro la cosa più economica da Abbiamo fatto Valentino, abbiamo fatto Gucci, abbiamo fatto Louis Vuitton Direi che è arrivata l'ora di fare Prada Mi avete inondato letteralmente di richieste riguardo questa tipologia di video Quindi io sono pronta con il mio computer per esplorare assieme a voi questo fantastico mondo Tutto lucicoso, tutto fichissimo, delle passerelle di Prada Però per poi scoprire qual è la cosa più economica e davvero i poracci comprare proprio quella Quindi, let's go! Ci siamo, sono sul sito Prada Mi sta già attraversando un brivido per la figaggine di questo sito, diciamoci La verità sembra molto alta Noi siamo di Prada, tu non sei niente Allora, collezioni Questa è la prima voce tra le categorie Anche se secondo me in collezioni non troveremo nulla di economico Perché evidentemente saranno le prossime collezioni delle passerelle Esattamente Fashion winter 2018, men and women Io questa la schipperei perché sicuramente nell'età moda non troveremo niente di economico Allora, poi c'è donna Donna Andiamo a vedere i must haves Ah, ok Luminosi e centifluo Io non vorrei dirvelo ma mi sento, mi sento che il commesso, la parte del commesso di Prada si sta impossessando di me Io sono ancora me stessa per il momento ma lo sento che con queste caratteristiche, le categorie che leggo, le descrizioni E questo commesso sta per uscire, sta per impossessarsi del mio corpo Io vi ho avvisati Luminosi e centifluo, collezioni e fluo in questa borsa verde, fosforescente che ti prende un corpo Prada nylon, nylon mi sa di economico Andiamo a vedere che cosa c'è su Prada nylon Ah no, assolutamente non è economico Zaino Prada nylon, tutti i 1350 euro Tiè, mi stavi costasse poco perché nylon, tiè 1350 euro, c'è il marsupio da 1200 se preferite Borsa da spalla 1500 euro Ma perché in nylon? Marsupio 790 euro, 740 euro Contenitore in vela, 240 euro Questo mi sembra già economico se lo mettono qua Tutto il resto mi sembra caro, questo mi sembra economico Contenitore in vela, 240 euro Zaino in tessuto, 890 euro 980 euro 790 euro Questi marsupi che saranno minuscoli 530 euro 480 euro Vabbè, abbiamo capito che qui la roba economica non ce sta Io almeno spero che questa non sia la roba più economica Perché sennò altrimenti mi tocca prenderla Continuiamo Con Fluo Collection Andiamo a vedere Fluo Collection Ah ok, qui ci sono gli occhiali Prada postcard da 185 euro Che non è male, che non è male direi Non è male, quindi almeno Almeno non mi tocca prendere la roba da 1400 e passa di prima Borsa Shopping Large in nylon imbottito 1150 euro Sta roba fluo, io ve lo dico, non mi ispira Marsupi in nylon 750 euro Sneakers Cloud Bust 620 euro Pochette in nylon 750 euro Però Diciamo che, allora, no Vabbè, per adesso quello che costa di meno Sono appunto Gli occhiali Prada postcard Da appunto 185 euro Allora, i dettagli del prodotto Ah beh, c'è anche la modella che li indossa Modello di campagna pubblicitaria Prefall 2018 Esclusiva re-edition Ve l'avevo detto che il commesso stava per uscire, ragazzi Esclusiva re-edition Dell'iconico Prada postcard Presentato con bustina portocchiali abbinata Vabbè Spendo 185 euro per poi agli occhiali Volete non darmi la bustina col portocchiali Portocchiali abbinata Voglio dire come li volete dare così Senza la bustina Cioè mi piace che lo specificano Distintivo frontale a gatto Realizzato in nylon trasparente E lenti in tinta Ma spero vivamente che non sia questa la cosa più economica Perché non mi piacciono per niente Allora, poi Must-haves L'abbiamo capito che non c'è tripa per gatti Abbigliamento Allora, qui mi spavento Perché non penso proprio che qui ci sia qualcosa che possa costare meno Beh, forse pigiami intimo, ragazzi Ragazzi, pigiami intimo Ci sarà un, non lo so, un pigiamino Una camicia da notte Che ne so, una robetta proprio così Da notte Che costa poco Oh, santi Dio Scusatemi per questo Questo shock iniziale Pijama lungo in twill di seta 1400 euro Pijama in seta Mi sto tenendo sulla segna Non potete vedere l'ora Ma mi sto tenendo Pijama in seta stabbato 1540 euro Camicia in viscose seta 1550 euro Pantalone in raso Da abbinare alla camicia 850 euro Così c'hai 1550 Più 850 praticamente Giacca in seta con piume 1150 euro Vabbè, questa è fichissima Io vorrei averla questa Per stare a casa Con il mio Con la mia giacca in seta Che in realtà Una specie di accappatoio Però evidentemente Chiamarlo accappatoio Era troppo poco chic Giacca in piume In seta con piume Andare in giro per casa Così Quella mia giacca in seta Con il piume Qua strafigo 1150 euro Pijama in seta stampata 1400 euro 1480 euro Ok I pigiami non sono Assolutamente La sezione da guardare Se cercate qualcosa di economico Mi sono sbagliata Poi Sì Altre robe Nell'avigliamento Io lascerai stare Perché se i pigiami Costano così tanto Non voglio immaginare Che cosa può costare Una giacca Borsi a mano Mini bags Dai Mini bags Forse sono una borsetta Così piccolina Forse ci costa Poco Poco Per il sito Prada Allora Mini borsa in pelle Saffiano 390 euro 390 euro 690 euro No Qui come prezzi Direi che gli occhiali Da 185 euro Vincono E sono per adesso I più economici Che abbiamo trovato Altre borse 750 1200 1150 1150 990 No Direi che comunque Decisamente Qui non troveremo nulla Anche se sono carine Alcune Devo dire Non troveremo nulla Sotto ai 185 euro Penso che neanche la catena Di una di queste borse Costi meno di 185 euro Oh che carina questa rosa Con il logo Che colorosa Vabbè di cosa smettila Non devi fare shopping adesso Devi cercare Anzi sì Devi fare shopping Ma solo Della cosa più economica Allora Focus Focus Ok Poi Mi diverto troppo A filmare questi video Non so perché urlo Me lo chiedete sempre Quando ho iniziato Io non so perché urlo Così Ci sono cose Che non hanno risposta Nella vita Di borse Anche qua Io Lascierei stare Per il bene Della mia sanità mentale Calzature Decolte Sneakers Muse Ballerine Ballerine Anche qua Non credo Non c'è un paio di ciabatte Quelle usa e getta Degli hotel No Cosa andiamo a vedere qui Sandali Magari qualche sandalo basso In gomma Da mare Che costa poco Sandali Lo santo cielo Allora Questi si che sono Uno statement piece Cioè se volete un pezzo Che faccia tutto il vostro outfit Questo è sicuramente Quello giusto Perché praticamente Vi vedrebbero da un aereo Con questi sandali 890 euro 890 euro 690 euro 690 euro Sandali In pelle Ma non c'è un coso Ordina per Me ne sono accorta adesso Per prezzo crescente Quelli che costano meno 300 Sto strozzando 390 euro Sandali infredito In plex Verni In plex Quindi questi Ti vanno a sudare il piede Guarda che è meglio Che non ti avvicini alla gente 390 euro Sono quelli che costano di meno Gli occhiali costano Comunque meno Per fortuna Anche questi sono orrendi Calzature Accessori Accessori Mini Portachiavi Trick Secondo me Secondo me I portachiavi Saranno la sezione giusta per noi Andiamo a vedere Allora Portachiavi trick 220 euro No No Allora Ordina per Ho capito il trucco Ordina per Prezzo crescente Quindi Dalla cosa più economica Alla cosa più cara Ok 150 euro Beh sono anche carini questi Devo dire Sono carini Portachiavi in pelle Saffiano e metallo Ci sono sia con il logo Prada Poi c'è questo nero con questo robot Questo non mi piace Oh che carini C'è il cuoricino C'è il fiorellino rosa Sono molto molto belli No Quelli poi già costano di più Quindi quelle che costano meno Sono questi da 150 euro Per adesso ragazzi Questi sono la cosa più economica Che abbiamo trovato Perché gli occhiali erano 185 Questi sono 150 Devo dire che sono contenta Perché piuttosto Acquisterei un portachiavi Tipo questo carino Rosa Con il fiorellino O il cuoricino Piuttosto che prendere Quegli occhiali Quindi però Vediamo se riusciamo a trovare Qualcosa che costa Ancora meno di 150 euro A questo punto Non lo so Se troveremo qualcosa Che costa di meno Proviamoci Allora vediamo Sempre su accessori Pet accessories No vabbè Andiamo Vi prego Andiamo a vedere Gli accessori Per animali domestici Perché questa Oddio Non sapevo che Prada Avesse No vabbè Il collare In pelle Bicolore Con borghi Da 250 euro Per il vostro cane E il vostro gatto Questa è fantastica Figuratevi se avete Abbiegati un collare Del genere Che dopo due giorni Se lo sono già tolto E l'hanno Masticato tutto Allora Guinsaglio in pelle Andiamo a vedere Questo da 300 euro Vi prego Allora Guinsaglio in pelle Saffiano Dettagli del prodotto Pelle Saffiano Accessori in metallo Con finitura in acciaio Ah ma Sono la finitura in acciaio In metallo Quello che si sa L'ugginisce pure L'ogo inciso Sul ciondolo Two centimeters height Non si sa perché Ma è l'ultima In inglese Dettagli Realizzato Eh beh ragazzi 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 Realizzato nell'iconica Pelle Saffiano Che bello è qua Il guinsaglio È arricchito Della catena E gli accessori In metallo Con finitura in acciaio Sul ciondolo E inciso Il logo Naturalmente Naturalmente Beh Devo dire Che guinsaglio Da 300 Che poi guinsaglio In pelle Ragazzi C'è Pezzetto così in pelle Tutto il resto È metallo Cioè manco acciaio Metallo Solo con finitura La guine è proprio Cheap Cheap Però da 300 euro Grazie 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 al cielo Non è questo Il Non è questa la cosa Che costa di meno Su questo sito Perché prendermi un guinsaglio No Ma Cioè scusatemi un attimo Prenota un appuntamento Per questo prodotto C'è scritto Ma vi immaginate Che io telefono Alla boutique Prada Si salve Buongiorno Io gradirei Prendere appuntamento In boutique da voi In quanto Gradirei Acquistare Il mio prossimo acquisto Vorrei che fosse Un guinzaglio Cioè Ma vi immaginate E qui sotto Tra l'altro C'è anche Book la point Cioè prendi un appuntamento Mi da La boutique di Prada A Torino Nonostante quella più vicina a me Non sia assolutamente Torino Però evidentemente A Torino Si intendono di guinzagli E mi danno anche l'ora Dell'appuntamento Giorno e ora L'appuntamento Io vorrei Ti vi giuro Io dovrei fare assolutamente Un video Prossima volta Vi giuro lo faccio Vado da Prada E dico sì Io ho preso appuntamento Per parlare Del mio prossimo acquisto Che sarà un guinzaglio Cioè io voglio troppo Vedere la loro faccia Quando vado E gli dico così E poi non lo compro Ma non lo compro proprio Gli chiedo il prezzo Quando me lo dicono Ah no Ok mi sono sbagliata Bye Allora portafogli Torniamo su accessori Portafogli Cinture Cos'è Prada lettering Non credo che portafogli E cinture costino Meno di 150 euro Per esperienza Prada lettering Però non so che cosa sia Proviamo a vedere Portanomi in metallo 120 euro No Jackpot ragazzi Jackpot Allora Lettera in metallo Sono Sono tutte A 30 euro Ma che cosa sono Ste lettere in metallo Ah ok No Sì Scusate Questo c'è un po' Da river Ok c'è un portanome In metallo Che loro chiamano portanome Ma mi sembra Un portachiavi Un portachiavi Praticamente Si vanno ad inserire Le lettere In questo portachiavi Penso Perché le lettere Hanno delle Barrette Sopra e sotto Che vanno tipo Ad incastrarsi Presumo Non l'ho mai visto In questo portanome Quindi tu puoi Prenderti il portanome Da 120 euro Però non ci puoi fare nulla Se non ci metti Anche le lettere Da 30 euro A botta Ok Ok Allora Ma ci sono solo Io vorrei prendere la N A questo punto Anche se non so che cosa facci Ma sicuramente Ragazzi Questa è la cosa Anzi sicuramente Per adesso almeno Questa è la cosa Che costa di meno 30 euro 30 euro Imbattibili Imbattibili Almeno per il momento 30 euro Oh no Non ci sono solo lettere Oh che carini Allora C'è la stellina C'è l'orsetto rosa C'è il cuoricino Le labbra Oh La più carina è questa C'è la zampina rosa No vabbè No il robot non mi piace Oh che carina No anche l'osso mi piace Però la zampina rosa È molto molto bella E anche Oh l'orsetto Il cuoricino No sono belli questi Poi c'è il logo Prada E il resto sono tutte lettere E sono sì Tutti a 30 euro Non sono sicura Perché dobbiamo ancora vedere Il resto Però 30 euro Mi sa che Mi sa che sarà questo Proviamo Allora continuiamo Accessori Calze Gioielli Cappelli Io Guanti Lascierei stare Sicuramente Qui costerà di più Però calze Calze può essere Calze Proviamo a vedere No Sottiti No Ok Le calze costano 150 euro E 130 euro Vabbè Andiamo a vedere Calze in Jocorle Non so Cominciare Che cosa vuol dire Dettagli del prodotto Motivo Jocorle In rilievo 100% Poliestere Ma come Calze da 150 euro Non sono manco in cotone Sono in poliestere Ma non si può vedere Materiale Nylon Ma come Nylon Cioè scusa 150 euro E almeno che siano di cotone No O di lama Che ne so Non dico cash Mi rosetta Ma almeno in cotone Brava Veramente cheap Cioè Nylon Ragazzi Cioè almeno non metteteci Almeno non metteteci Il materiale E fate più bella figura Prenota un appuntamento Voi sapete Voglio prendere appuntamento Per parlare del mio prossimo acquisto Che sarà un paio di calze No vabbè Qualcuno dovrebbe farla Sta cosa Fascino contemporaneo Per le calze lunghe Fin sotto il ginocchio Ragazzi Non sono alla caviglia O al polpaccio Sono fin sotto il ginocchio Caratterizzate dai motivi Geometrici Jocorle Ragazzi Ragazzi Sono in nylon Ma c'è il logo Prato E quindi 150 euro Tac Profumi Profumi Può essere che i profumi Costino meno Allora Prada Olfactory 260 euro Ordina per Prezzo crescente Prezzo crescente Andiamo a vedere Ah questo è il prezzo crescente E comunque 260 euro Profumi Proviamo La Fem Prada La Fem Forse la Fem Costa meno 65 euro 65 euro No ma comunque 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 C'è 30 euro Abbiamo trovato La verde freschezza Del frangipani Cos'è il frangipani E' arricchita Dall'essenza Dall'essenza Di mandarino E' ammorbidita E' ammorbidita Dall'ilang E' ammorbidita E' ammorbidita E loro fanno E loro fanno la stessa Identica cosa Prada Les infusions Allora Ordina per Prezzo crescente 95 euro No No Regali Borsa Accessori Gioielli Profumi No Regali Lossuosi Sì ciao Sicuramente Sono economici Altri profumi Vediamo Prada Candy Ma non credo Che costi Meno di 30 euro Forse il campioncino Te lo dando Meno di 30 euro Prezzo crescente E' 60 euro Anche qui Quello che costa di meno E' 60 euro E quindi Ragazzi E ragazze Noi torneremo Su accessori Vogliamo vedere Ma no Portafogli cinture Technology Che cosa ci può essere Forse qualcosa su technology Accessori technology Oh le cover per iphone Mio dio 200 euro Prezzo crescente 170 euro E la cover Proprio Niente Plastica Solo con il logo 170 euro No ragazzi Assolutamente Hanno vinto Queste Prada Lettering Ovviamente Che costano 30 euro Ovviamente Noi Acquisteremo Soltanto Una lettera Non vado ad acquistare Anche il Portanome in metallo Come lo chiamano loro E Che cosa acquistiamo Che cosa acquistiamo Beh Tutto sommato Sono contenta Di non aver dovuto Prendere Le calze orribili Nylon O gli occhiali Orrendi Anche quelli Proprio No No Le lettone Non mi piacciono Io a questo punto Ragazzi Visto che questo Allora Mi piace molto Molto di più Il cuoricino Mi piace molto Molto di più La zampina Una rosa Però a questo punto Io prenderei Il simbolo Prada Che è proprio Cioè Classico Classico Simbolo Prada Visto che Questo video È appunto Tutto dedicato Alla Maison Prada Italiana Made in Italy Tutto quanto Prenderei questo Prada Symbols Se il mio internet Ok Ok 30 euro Modello Ah C'è in tre colori C'è in tre colori Oh c'è anche argentato Oppure Rosso A questo punto Io prenderei Quello classico Che è dorato E nero Proprio Il simbolo Prada Che sta su tutte le borse Su tutte Su tutto l'abbigliamento Eccetera eccetera Dettagli del prodotto Triangolo Metallo Smaltato Con Con Maiuscolo Così Se io facevo a scuola Mi beccavo quattro Era il triangolo Metallo Smaltato Con La scelta Di questo simbolo Alcune combinazioni Di tre elementi Potrebbero non essere possibili Ma perché non ci mettete Un punto Una virgola Ma chi ha messo La descrizione Su sto sito Vabbè Ehm Materiale Altri materiali Che cosa vuol dire Altri materiali Di che cosa è fatto Di che Che cavolo è fatto Sto coso Altri materiali Deve essere talmente Scadente Cioè più scadente Del nylon di prima Perché il nylon L'hanno inserito Qui Altri materiali Cioè quindi Ferraglia Tradotto Ah si Si Lo vedo adesso Perché c'è qui C'è il Questo portachiavi E poi ci sono tre simboli All'interno Quindi Mi sembra molto Mi sembrava molto grande Quando li vedevo Uno dopo l'altro Invece vederli qui Sembra minuscolo Quindi Non so cosa aspettarmi Forse è Il portachiavi Che è grande Lo so Allora Questo Prada Symbols Rappresenta L'iconico Logo Triangolo Realizzato In metallo Smaltato Ah quindi In metallo Smaltato Beh mi stavo Preoccupando Charm Realizzato Per personalizzare I portachiavi Con portanome Aggiungi al carrello Aggiungi al carrello Totale 30 euro Spero non ci sia Anche da pagare La spedizione Perché magari 30 euro questo O 40 La spedizione Siamo messi a posto Vai al pagamento Prada Sì Spedizione gratuita Spedizione gratuita Tassa di spedizione Zero Imposta prevista Zero Almeno Qui Insomma Qui sono onesti Sono onesti Sei un cliente abituale O vuoi fare il pagamento Come utente non registrato Cioè se sei cliente abituale Ti facciamo tutto Un bel pacchetto Tutto carino Con i ringraziamenti Eccetera Se sei un utente Non registrato Lo schiaffiamo La E tanti saluti Adesso ragazzi Io inserirò Tutti i miei dettagli Della carta di credito Eccetera eccetera Che ovviamente non filmerò E ci vediamo Quando ricevo Il pacco E vedremo Non so cosa aspettarmi Vedremo Secondo me sarà minuscolo Così Vedremo Ci vediamo Ci vediamo tra qualche giorno Ok ragazzi Sono passati solo due giorni È stato veramente velocissimo Ed il pacco è arrivato Allora Intanto mi aspettavo Che fosse un po' più grande Non so perché Perché sinceramente Probabilmente quello coordinato Sarà piccolo così Tipo come l'unghia Del mio pollice Però non so perché Mi aspettavo un pacchetto più grande Forse perché in passato Con questo Con questa tipologia di video Ho ricevuto sempre pacchi Un pochino più grandi Quindi Però questo è il nostro pacchetto È strapieno di etichette Che io ovviamente Ho strappato Perché Temevo si vedesse Il mio indirizzo Ma Andrea Andiamo ad aprirlo assieme È anche Super Super Leggero Devo dire che come pacco È abbastanza insulso Infatti Non pensavo Si trattasse del pacco Di Praga Di Praga Di Prada E quindi l'ho aperto Poi mi sono resa conto Che c'era una busta Prada L'ho subito richiusa E non l'ho toccato Perché pensavo Sinceramente Che fosse Non lo so Qualtutto Ma non Prada Con una scatola Insulsa Del genere Comunque Magari all'interno Mi hanno messo 70 campioncini Quindi non si sa Non giudichiamo Non giudichiamo Allora Questo Appena Apriamo il pacco Questo è il contenuto E C'è Un sacco di Nylon Plastica Oh là Finisce Vai E che Ok Questa è tutta La plastica Prima C'è più Plastica Che altro In questo pacco Altra plastica Nel caso Non bastasse Quella di prima E Allora Allora All'interno C'è La nostra busta Prada Ancora piegata C'è come dire Hai preso la roba Che costa di meno Boraccia Che cosa vuoi Che te la radizziamo Pure sta busta Assolutamente no Comunque No sto scherzando Perché in realtà Molto carina C'è Il fiocchetto Prada Fiocchetto Prada E la busta Ok Prada con il logo E Questo è quanto Sembra vuota No Qualcosa c'è Ma sembra vuota E poi c'è Questa Questa busta Con una scritta Prada All'interno Altro non c'è Beh Mi aspettavo un campioncino Almeno Boh Non lo so Non lo so Un po' scarsetti Apriamo questa busta E vediamo Che cosa c'è All'interno Ah no Ok C'è l'etichetta Che mi dice Se voglio restituire Il Quello che ho comprato Perché magari Che ne so Non mi piace O Perché ho speso troppo E posso restituirla Con questa etichetta E poi ci sono le Return instructions Appunto Questa è la busta Tadà Non so perché Sono quasi emozionata Ad aprirla Non so perché Anche se so Perfettamente Che cosa c'è all'interno Però Boh Non lo so Non lo so Non lo so Non ne ho mai visti Dal vivo Questi Cosi Come si chiamavano Non mi ricordo più Comunque Andiamo Non profuma nemmeno Di solito ci spruzzano Mi sa chi era Gucci aveva spruzzato Profumava tutto No vabbè Questa è Sa di carta Se ordini una roba Che costa 30 euro Dal sito di Prada Questo ti becchi E poi c'è Questo scotch Che ha la stessa fantasia Della borsa Si mimetizza molto bene Poi c'è lo scotch Sotto Da poveri Praticamente Lo scotch normale Che hanno coperto Con lo scotch più figo Ok Oh Mio dio No vabbè Ci sono rimasta Abbastanza Abbastanza male Perché all'interno Come potete vedere Hanno lanciato Letteralmente Il nostro acquisto Questo charm Piccolino E non l'hanno nemmeno Inserito nella dust bag C'è una piccola dust bag Questa Molto carina Con il logo Prada Però non hanno C'è Quello che abbiamo comprato Che Voglio dire Anche se Oddio Veramente piccolista Però era lanciato dentro Così Non l'hanno nemmeno Non hanno avuto Nemmeno L'accortezza Di metterlo all'interno E chiudere La dust bag In questo modo Magari con un nodo Magari l'hanno chiuse Poi si è aperta Nell'espedizione Ma dubito Perché se io la chiudo Rimane comunque chiusa Ed era proprio aperta Con il Questo piccolo charm Non è un charm Non mi ricordo come si chiamasse Però ho lanciato dentro così Boh non lo so Non mi è piaciuta tanto questa cosa Cioè come dire Tu hai comprato quello che costava di meno E vergogna Di te lo lanciamo così Magari se hanno pure sputato E dito Puto Non sto scherzando Però si no La dust bag c'è La dust bag c'è E questo è quello che noi abbiamo acquistato Eccolo qua ragazzi Questo è il nostro piccolo piccolo acquisto Da 30 euro Quello che costa di meno sul sito Prada È questo Ed altri simili a lui Sembravano più grandi sul sito Prada Devo dire la verità Ma poi vedendo il portachiavi Ho pensato che probabilmente non saranno così grandi Comunque questo è il logo classico Prada è aiuto E dietro non c'è assolutamente nulla Devo dire che per 30 euro è decisamente decisamente poco Nel senso che almeno con cos'era 60 euro da Valentino Avevamo una boccetta full size di profumo Questo con 30 euro è una roba mini Microscopica nanissima Di cui io non posso fare Cioè con cui io non posso fare assolutamente nulla Se non appoggiarla lì E ogni tanto guardarla Per ricordare questo video Ci sono rimasta veramente molto molto male Che loro l'abbiano lanciata così Cioè secondo me hanno preso la busta Capito? Hanno preso la busta Ok adesso vi faccio il commesso di Prada Non me ne vogliono i commessi di Prada Io voglio bene a tutti ma Ok è solo nella mia testa sta cosa Però io mi immagino il commesso di Prada Tutto schizzinoso che Questa che non gli è mai successo Di ricevere un ordine da 30 euro Perché secondo me è impossibile che succeda Cioè chi è che va a comprare solo i charm Senza il portachiavi? Solo io Quindi io ho messo che non gli sia mai successo Nella sua vita Carriera da Prada E quindi ha visto st'ordine Squallidissimo Ha preso la busta e fa Toh Toh Chiusa Bam Nella scatola più orribile Che aveva sotto mano Cioè questa Notare tra l'altro che è anche tutta rigata Rovinata E di solito non arrivano in queste condizioni Specialmente in due giochi lavorativi con corriere Quindi devo dire che E poi mi sono Non lo so Penso che questo tra Gucci Abbiamo fatto Gucci Louis Vuitton E Valentino Valentino mi aveva dato uno scatole enorme Vi ricordate? Allora questo è quello che mi ha deluso di più Niente campioncini La busta non profuma Non c'era nemmeno un bigliettino di ringraziamento per l'acquisto Che di solito mandano queste case C'era soltanto il costo per il reso Che è proprio il minimo che potevano mettere Che potevano fare Quindi non mi siete piaciuti tanto voi di Prada Devo dirvi la verità Ho preferito molto di più le altre case Amazon Che ho menzionato poco fa Però questo è quello che noi abbiamo ordinato E è la cosa più economica del sito Prada Quindi questo è quanto MiaFamily Ovviamente se volete altri video di questo Di questa tipologia Scrivetemi nei commenti Quale brand volete che tratti Nel prossimo video Fatemi sapere Fatemi sapere Io vi mando un bacio grandissimissimo E ci vediamo alla prossima Voi vedrete questo video venerdì Quindi ci vediamo lunedì con un nuovo video Bacio MiaFamily Ciao 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 Grazie a tutti.